Centinaia di opere che riposano al buio in attesa di essere restaurate o restituite allo stupore dei visitatori dei musei vaticani. Nel deposito climatizzato del magazzino quadri trovano riparo dipinti, sculture ligne e opere su carta, con noi Vittoria Cimino alla guida dell'ufficio del conservatore. Il rumore che sentiamo è proprio l'apparecchio di climatizzazione e controllo dell'umidità. Questo è uno dei depositi più nuovi, più tecnologici. È dotato da UNUTA, un'unità di trattamento dell'aria, che assicura parametri di temperatura e umidità relativa ottimali per i tipi di materiali che vi sono conservati. Qui conserviamo i dipinti su tavola, su tela, le sculture di legno, le opere di carta. Quindi hanno bisogno di valori di temperatura e umidità relativa abbastanza ristretti. Un 50-55% di umidità relativa, un 21-22 gradi di temperatura. E noi riusciamo ad averli con questo tipo di impianti. Oltre alle telecamere che ci controllano, ci sono anche una serie di sensori, di rilevatori, proprio dei parametri ambientali. Sono dei sensori radio che inviano quello che loro registrano nel nostro ufficio, nell'ufficio del conservatore. Questi dati poi vengono non solo consultati in tempo reale, quindi noi ci accorgiamo se succede qualcosa e possiamo avviare la richiesta di interventi tecnici, ma vengono registrati e archiviati. In questa maniera noi abbiamo lo storico di tutto quello che dal punto di vista ambientale succede nel deposito. E questa è una cosa importante. Due volte l'anno il magazzino quadri viene sottoposto a trattamenti di completa igiene, dalla deragnatura alla pulizia dei pavimenti alla spolveratura dei telai. Oltre a effettuare un ferreo controllo dei nuovi ospiti. Le opere che arrivano qui, prima di arrivare nel deposito, devono essere sottoposte a un protocollo di ingresso. Che significa che devono essere sottoposte a trattamento di disinfestazione, se serve, o antitarlo. Proprio perché sono opere su legno, su carte, quindi potrebbero introdurre fattori di rischio al resto del deposito che noi invece desideriamo preservare. È un deposito che alcuni anni fa è stato completamente svuotato, disinfestato, e da questo momento in poi è sottoposto a un regime di alta protezione. In un ricambio più o meno dinamico, le opere del magazzino quadri tornano nelle sale dei Musei Vaticani, come è successo recentemente per un'opera di Agnolo Gaddi, figlio di Taddeo Gaddi, artista toscano e discepolo di Giotto. Si tratta di una tavoletta del 1300 raffigurante l'apparizione dell'Arcangelo Michele sul Mausoleo di Adriano, oggi conosciuto come Castel Sant'Angelo. Sfatiamo la leggenda che nei depositi ci siano i capolavori che in questa maniera vengono sottratti al godimento da parte del pubblico. Nei depositi non ci sono i capolavori identitari dei musei, i capolavori del museo sono sempre esposti. Però ci sono una serie di opere che sono importanti e che assicurano la vita stessa dell'opera del museo. Quando le nostre tavolette, i nostri dipinti su tavola della Pinacoteca partono per mostro o per restauro, ci sarà un sostituto e il sostituto è proprio qui, nei telai del nostro deposito. Inoltre, nei depositi le opere stanno benissimo, stanno meglio che in Pinacoteca, perché sono in un ambiente totalmente controllato dal punto di vista climatologico, al buio, che è la condizione migliore per le opere, perché la luce è un fattore importante di degrado e di rischio. Non sono sottoposte alla pressione antropica, quindi diciamo che riposano le opere ed è giusto che ci sia un ambiente dove le opere possono riposare. I depositi sono come gli organi interni di un grande organismo. Se non c'è un luogo dove le opere possono riposare, dove possono essere conservate, dove possono attendere in sicurezza di essere restaurate, c'è un consumo del bene e questo non è una cosa buona.